Tutto il mondo sta puntando sulla transizione ecologica, tutto va verso il green, la sostenibilità, tutti sono alla ricerca di competenze adeguate, tecnologicamente avanzate e questo tipo di istituto post diploma, questo biennio che si sviluppa in ore di aula, ore di laboratorio e soprattutto ore in azienda, dà quel plus in più a questi ragazzi che gli consentirà di entrare in maniera più veloce nel mondo del lavoro, si fanno conoscere dall'azienda e acquisiscono subito quelle capacità operative che oggi si ricercano per far crescere le aziende e è un modo anche per aiutare il sistema economico locale, quindi un'opportunità notevole che non fa però del tutto perdere anche un'opportunità di progressione diciamo scolastica o universitaria perché stiamo anche facendo degli accordi con le università per adesso con quelle telematiche che sono molto più congeniali alla diciamo formazione smart che noi proponiamo e quindi chi farà lo studente in ITS potrà trovarsi un lavoro ma potrà anche non rinunciare a completare il corso di studi perché il percorso ITS potrebbe essere valorizzato circa 80-90 crediti che significa un anno e mezzo di una laurea in ingegneria ambientale triennale.